Dovrà essere un Pescara diverso da quello delle ultime uscite, altrimenti la trasferta di Ascoli sarà destinata a riservare le amarezze degli ultimi precedenti. E diverso lo sarà, senz'altro stando all'aspetto tattico, da inizio settimana Luciano Zauri sta lavorando in maniera incessante sul 3-5-2. Dovrà esserlo anche sotto i profili del temperamento e della concentrazione, aspetti che sono mancati pesantemente soprattutto nelle gare con Cittadella e Crotone e che si sono tradotti, tra le altre cose, con approcci sbagliati alle partite e con errori più o meno evidenti che hanno agevolato le reti degli avversari. Senza queste componenti il cambio di modulo risulterà inutile, con temperamento e concentrazione ecco che il 3-5-2 potrà contribuire a dare maggiore solidità difensiva creando densità in quella zona centrale perforata più volte in questo inizio di stagione. In rosa non mancano le soluzioni ai tre centrali, i quattro presenti in organico Campagnaro, Drudis, Cognamiglio e Bettella, Piucciofoni, Vitturini e Del Grosso. Per quest'ultimo si tratta di un ruolo inedito ma l'esperienza può aiutare piuttosto che fare il quinto di sinistra, ruolo molto più dispendioso. Peraltro Campagnaro ai livelli massimi e Ciofani in carriera hanno reso al massimo proprio nella difesa 3. La gamba dei quinti può essere garantita da uno tra Crecco e Masciangelo a sinistra e da Zappa a destra, con Vitturini o Ciofani ci sarebbe una interpretazione più difensiva di un ruolo fondamentale per questo modulo. Restano i tre interni di centrocampo mentre in attacco è presumibile che i ballottaggi saranno Brunori Maniero per il posto da centravanti, Galano Di Grazia per quello di seconda punta, posizione alla quale dovrebbero adeguarsi poiché entrambi nascono esterni d'attacco. Resta tuttavia il rischio di aver scelto un drastico cambiamento dopo aver lavorato per mesi su una ipotesi principale 4-3 e un'alternativa 4-3-1-2 e una crisi di rigetto e sempre dietro l'angolo. Di eventuali difficoltà del Delfino proverà ad approfittare Lascoli che, a fronte di un bel inizio di stagione, vuole dimenticare la sconfitta di Cremona e dovrà fare i conti con le assenze di Ardemagni, certa, e di uno degli ex, il difensore Brosco, molto probabile. Da valutare le possibilità di recupero di Beretta e Scamacca che al massimo andranno in panchina. Ci sarà il trequartista Nicola Ninkovic che parla del K.O. dell'Ozzini e del plateale sfogo personale avuto dopo la sostituzione. Io lo faccio uguale. O dopo la partita, a casa mia, non posso essere felice quando non gioco bene, quando mia squadra perde. Però, come detto, mi dispiace per tutti, prima per l'anatore, per il direttore, per la società. La gente può pensare che non ho rispetto, però vi assicuro che non è così. Il mister, il direttore e la società sanno benissimo che io rispetto ciò e con loro non ho problemi. Ma aspettate un Pescara chiuso come la Cremonese? Non sappiamo questo. Vediamo sicuramente che prepariamo partita anche così. Vediamo come esce Cremona. Come escono noi dobbiamo reagire bene, dobbiamo rispondere bene e provare a prendere tre punti.